Avete visto il provvedimento, quantomeno la risposta del governo alla situazione. Io credo che adesso ci sarà in base a questa disposizione del Presidente del CONI l'incontro del 4 fissato settembre del Consiglio nazionale. Dopodiché andremo velocemente a vedere cosa dobbiamo fare, i tempi più stretti possibili. Se volete vi posso anche indicare una data dell'Assemblea, secondo me ipotizzabilmente portata avanti, salvo fermi restanti alcuni problemi organizzativi. Per me la data giusta sarebbe il 22 di ottobre. Roberto Santi, visto che sei andato oltre il calcio femminile, invece sul discorso Serie B come... Lo stiamo ancora definendo e adesso è ancora prematuro dirlo. Grazie a tutti. Quindi non arrivano le novità in giornata? Non lo so, vediamo. Speriamo perché in fondo il vostro lavoro merita anche questa attenzione. Grazie.